A-T-T-I! Onore ad Antonio Minervini! Camerata Antonio Minervini! Presente! Posso chiedere a Loris di lavorare da lui? Senti, in qualche modo facciamo. Non ti preoccupare. Io pensavo di farla venire due volte a settimana per tre ore. Per lei potrebbe andare bene? Potremmo fare un periodo di prova. A me? Ma lei come ne ha trovata? Ho trovato l'instezione per strada. Sono tornata da poco per stare con i miei fratelli. Oltre alle pulizie faccio anche il turno di notte in un supermercato. Lavori da un giudeo di merda! Non dici di farlo. Allora non hai capito un cazzo. Forza rispetto, Marcello! È quello che avrebbe fatto papà. Papà non avrebbe mai tradito i suoi ideali. Non era come pensi tu. Come si chiama? Antonio. Antonio, sono un medico. Cerco di fermare l'emorragia qui. Suo padre com'era? Mia sorella non la fa la serva a quelli come te. Tu padre mi doveva un po' di soldi. Che sei venuto a fare con la notte in supermercato? Ho paura.